quel che mi è spanto anche, stappavo sull'orto e mi fuori sto coso qui e 50 anni fa, 60 quasi, questo chi l'ha quegli anni lì perché l'è una cambretta, una volta il fil della luce è quel rigido che si usava in quegli anni lì, che però da queste chigan avevano sempre piene le scarsele con elastico, era il gioco delle cambrette, una specie di fionda un po' particolare che funzionava così, un tiro a segno divertente altro che freccette o che... guarda lì che è arrivata solo con un rimbalzo, quasi 2 metri, 8, 9, solo dell'imbalzo, bel colpo